Allora, siamo arrivati al giro di chiusura un po' per fare il punto della situazione. Italico, Porcellum, che cosa ne pensa Valdegamberi, espressione di un movimento autonomista, diciamo così? No, ma dico che Italico, Porcellum, se vada da un Porcellum all'altro qui, non so, ormai è l'Italico o anche un Porcellum? Perché qua non c'è libertà di opinione, di pensiero, di manifestare quando la democrazia diventa un strumento di mano a pochi che interpretano il pensiero, per me non è un passo avanti, è quasi un passo indietro, anzi è un non passo. Io credo, però volevo rispondere velocemente anche al concetto che prima aveva contestato l'amico Ruzzante. La nostra Costituzione italiana non è l'ultimo grado di giudizio della legalità, c'è una legalità internazionale, c'è un principio di libertà che è tutelato dalla Carta dell'ONU, il quale contempla anche un principio di autodeterminazione. Quindi il concetto di Stato non è un concetto assoluto, è una condizione qua, dove noi nasciamo dobbiamo per forza morire lì. Ecco, quindi questo fa parte del diritto internazionale e il quale diritto internazionale nella stessa nostra Costituzione, l'articolo 10, si conforma. Quindi o noi usciamo dall'ONU, allora ha ragione, ha ragione che si è pensato. Sicuramente, se noi siamo dall'ONU, la libertà, io non solo per dire che bisogna fare, bisogna sentire i cittadini, posso dire no, non si fa, benissimo, ma negare la libertà di espressione, questo significa negare un diritto naturale che appartiene a ciascuno di noi. Chiarissimo. Padrini. Oggi noi stiamo pagando anche il fatto che negli ultimi due anni non abbiamo un governo in grado di assumere decisioni forti. Questo non è più accettabile, perché questo alla fine lo paga anche la signora Maria con i 600 euro di pensione di cui parlavamo prima. Quindi noi abbiamo bisogno di una riforma che innanzitutto avvenga e non sia tentata come si è fatto in passato. Quindi lei è favorevole a questo tipo di bozza, come quello che sostiene? Sì, secondo me va migliorata, perché io credo che comunque un diritto di tribuna debba essere garantito a tutti e abbiamo visto in passato che cosa significa favorire di fatto, a volte anche inconsapevolmente, dei movimenti che sono extraparlamentari. E dall'altra parte io credo che vi sia la necessità di identificare un territorio con un suo rappresentante. Chiarissimo. Lei ha marcado. Io ribadisco che l'ho detto prima, se non c'è l'introduzione delle preferenze rimane una riforma monca con una carenza di rappresentatività enorme. Vi sentireste tagliati fuori? Ma sai, là è il popolo che decide. Con lo sbarramento al 5% noi chiederemo ai cittadini di votarci e dopo di che se non ci voteranno in maniera sufficiente continueremo a fare le nostre battaglie fuori dal Parlamento. Le facevamo una volta, siamo abituati a questo. Non è un problema, ma è proprio il problema delle preferenze su cui secondo me ci gioca una partita importante per, come dire, riprendersi un po' di amore da parte dei cittadini nei confronti della politica. Chi è pruggente? Su questo punto ho già espresso come la penso fin dall'inizio, cioè io credo che sia positivo il fatto che si sia tornati a parlare delle grandi riforme di questo Paese, sia quella costituzionale relativa alla cancellazione del Senato, alla riduzione del numero di parlamentari e soprattutto anche la riforma del titolo quinto, questo grande ridisegno istituzionale. Sulla legge elettorale io penso che si possa fare una scelta diversa rispetto a quella che è la bozza iniziale, in particolar modo restituendo ai cittadini il diritto di scelta. Questa questione non è comprensibile da parte dei cittadini perché se, come qualcuno sostiene, c'è il rischio di un inquinamento da parte di organizzazioni più o meno criminali nel voto di preferenza, perché lo consentiamo nelle elezioni dei consigli di quartiere, dei consigli comunali, dei consigli regionali, dei parlamentari? Cioè il voto di preferenza c'è in tutti i sistemi elettorali, posso aggiungere anche un'altra riflessione che questa riguarda più la mia parte politica? Si dice sostituiamo la preferenza con le primarie, ma scusate, se le organizzazioni criminali intervengono sulle elezioni, credo che potrebbero intervenire a maggior ragione, con minori costi anche probabilmente, dentro le elezioni primarie. Quindi, io ripeto, la mia idea non è tanto le preferenze ma è quella dei collegi uninominali. Il cittadino è posto di fronte non solo a un simbolo, non solo a un'idea, ma a una persona che ha modo di conoscere, di vedere rappresentata nella scheda e con la quale costruisce un rapporto. E quel parlamentare, e concludo, quando è a Roma, si preoccuperà, su questo sì sono d'accordo, sono veneto anch'io, anche se non la penso come voi, si preoccuperà di portare a casa risultati per il suo territorio perché in quel collegio è stato eletto, in quel collegio è stato votato. Io ero così, ci pensavo sempre il mio collegio. E credo che questo sia un modo per legare il parlamentare al territorio. Ma molto velocemente, prima di tutto, una richiesta che faccio non solo ai politici ma anche ai giornalisti. Cambiamo nome. Quelli della mia età si ricordano purtroppo Italicum, gli ricordano una cosa veramente molto triste. Italicus. Per cui se riuscissimo a trovare un nome diverso sarei molto felice personalmente. A parte questa cosa, ribadisco quello che ho detto prima. Se c'è un problema per questo paese e della disperazione delle famiglie, dei giovani... No, no, ho detto questo, ma tra la scelta tra i due è proprio... No, decisamente noi siamo favorevoli ad un sistema a collegioni nominali. Noi abbiamo una proposta anche integrata. Tra l'altro non c'è nemmeno la necessità del doppio turno, questo è un tecnicismo, volendo inserire un sistema di doppia preferenza, se stiamo così detto, australiano. Per cui si potrebbe anche risparmiare il secondo turno. Chiarissimo. Siamo assolutamente convinti di questo. Conosco il sistema. E quindi abbiamo visto che il parere di maggioranza a questo punto contrasta con quello che si vorrebbe arrivare invece al governo ed esprime un po' quello che magari a casa i nostri cittadini speriamo abbiamo portato a riflettere almeno in questa serata, senza naturalmente nasconderci quelli che sono gli oggettivi problemi. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi questa sera, grazie a voi di aver partecipato e come sempre ci troviamo domani alle 12.40 in diretta. Grazie. Grazie a lei, le spettatori. Buonasera. Grazie a tutti.